Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo glitch vi spiegherò come duplicare le BMX per fare il glitch che vi ho portato prima che adesso prende più senso Allora, in primis dovete avere una BMX, una sola basterà per farne duplicati Prima cosa dovete mettere un'auto, una LG normale, fuori dalla base operativa ragazzi come avete appena visto E una volta che siete in base operativa andate alla vostra BMX Io dicevo che non aveva senso quel glitch, poi ho fatto delle ricerche in giro sul web e ho trovato il metodo per duplicare le BMX perché il metodo prima è stato patchato, quello per mettere le BMX e i veicoli dentro la base operativa e quindi ho trovato questo metodo per duplicare le BMX Allora, sappiamo tutti che ci lascerà guidare la BMX nella base operativa premendo semplicemente X Non premete R2 perché sennò uscite fuori dalla base operativa e dovete ricominciare Una volta che avete fatto il tutto l'unica cosa che dovete fare è incastrare la BMX dove sta la tastiera di uscita La dovete incastrare in maniera tale che avrete il teletrasporto ragazzi se salirà così il glitch non potrà funzionare quindi dovete cercare di incastrarla in una maniera tale che abbia il teletrasporto Allora, vedete? Io la sto provando a mettere in vari modi però non va Allora, che cosa dovete fare? Vi dirigete dritti verso il punto e quando siete diciamo al punto che state per cadere dovete premere triangolo ragazzi in maniera tale da poter incastrare vedete che io adesso ho il teletrasporto e quindi è perfetto l'unica cosa che dovremmo fare è quando avremo il messaggino di uscita dalla base a premere triangolo e X insieme ragazzi è semplicissimo l'unica cosa vi costerà un pochino incastrare a BMX però poi c'è via della mano insomma una volta fatto ciò vi troverete fuori dalla base con la BMX è abbastanza semplice e la andate a mettere in un garage possibilmente prendete un garage vicino che abbia pure un solo posto libero così da poter duplicare le BMX e scambiarle con le LGR H8 quindi andremo a mettere la BMX nel garage per poter riportare la BMX nella base operativa che cosa dovremmo fare ragazzi dovremmo prendere una LGR H8 da dentro la base operativa e portarla al posto della BMX che si troverà in garage io qui avevo la LG quella che avete visto all'inizio del video e adesso mi fa entrare e mi fa mettere la BMX a posto di quella LG a questo punto prendete un'altra LG e ripetete il glitch ragazzi spero di esservi stato di aiuto un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti